Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi brevemente come è strutturata una proprietà su Vichidata, in particolare un identificativo esterno, e prenderemo come esempio l'identificativo enciclopedia italiana, la proprietà 4223. Vedete che come gli elementi le proprietà cominciano con etichette, descrizioni e alias nelle diverse lingue. Segue un'informazione importante, tipo di dato identificativo esterno, questo tipo di dato è comune a tutti gli identificativi esterni, quindi diciamo, differenzia gli identificativi esterni dalle altre proprietà, dalle proprietà ad esempio come istanza di, che ha invece come tipo di dato elemento, vediamolo. La proprietà istanza di ha come tipo di dato elemento, poiché istanza di ha sempre come valore, vedete anche in questo caso, un altro elemento, cioè ogni volta che io mi trovo un valore di istanza di so che è un altro elemento di Vichidata. Bene, quindi anche le proprietà poi vedete hanno delle dichiarazioni che cominciano sempre ad istanza di, questa è una proprietà di Vichidata per controllo di autorità ed è una proprietà di Vichidata relativa a enciclopedie che è, che appunto è riferita comunque, è, proviene dall'Italia, ecco questa proprietà proviene dall'Italia, è emessa dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ha come, ecco, ha come suo oggetto l'Enciclopedia Treccani, ogni identificativo esterno dovrebbe sempre avere l'elemento oggetto di questa proprietà, cioè ci dovrebbe sempre essere un elemento relativo al sito o il libro che dà origine a questa proprietà, in questo caso appunto è l'Enciclopedia Treccani, abbiamo degli esempi di uso della proprietà, abbiamo ecco fondamentale l'URL di formattazione, non c'è necessariamente sempre, visto che io posso avere l'identificativo esterno anche privo di un sito, però c'è nella gran parte dei casi, vedete, qui dove c'è il segnaposto, il programma, Wikidata automaticamente va a sostituire di volta in volta il valore della proprietà per dare origine a un link, come in questo caso vedete Germania, io posso aprire questo link che si compone col resto dell'indirizzo per dare origine ha il link nella sua interezza. Poi vediamo ancora l'espressione regolare per il formato che mi dice quale dovrebbe essere la struttura del valore della proprietà, cioè quali lettere, quali numeri, in quale successione dovrebbero darmi questo, dovrebbero essere usati, poiché se non vengono usati potrebbe esserci appunto stato un problema nella compilazione della proprietà e quindi appunto ci potrebbe essere un errore da correggere. L'url della fonte di questa proprietà serve a cercare a trovare un sito in cui, la pagina del sito in cui siano presenti tutti i valori possibili di questa proprietà, cioè sia presente la lista di tutti i valori, li vedete qua, questa qua è tutta la lista, molto lunga. Poi abbiamo un template corrispondente, abbiamo la categoria di tracciamento che mi dà informazioni su quali progetti wikimedia, di solito quali wikipedia utilizzano questa proprietà. Vedete ci sono 5.679 usi su wikipedia in italiano e ce ne sono altri 838 su wikipedia in francese. Abbiamo identificativi, vedete, correlati e poi abbiamo la discussione della proposta di questa proprietà, cioè appunto il link alla proposta di questa proprietà, quando è stata fatta, come è stata discussa e approvata, vedete, approvata e creata. Poi sotto abbiamo una serie di altre informazioni interessanti, abbiamo i vincoli. I vincoli sono una cosa specifica delle proprietà, così come il tipo di dato. Vedete, il vincolo è sempre espresso da una proprietà che è la proprietà vincolo proprietà e può avere una serie di valori fissi. Vediamo quelli presenti in questa proprietà. Il vincolo valore unico. Vincolo valore unico significa, lo possiamo vedere anche entrando al suo interno, che questa proprietà, ecco, vedete anche la sua immagine, questa proprietà non può avere lo stesso valore in due elementi diversi, cioè se io in un elemento ho un valore, un valore Germania, non ci può essere un altro elemento che abbia lo stesso valore Germania, se no c'è un problema. Ci possono essere delle eccezioni, vediamo perché ci possono essere delle eccezioni. Se io entro ad esempio in questi due elementi, pasquino e pasquinata, vediamo che entrambi questi elementi hanno pasquine e pasquinate come valore. Questo perché? Poiché su l'enciclopedia italiana evidentemente c'è una voce che unisce questi due argomenti e quindi si sono inseriti in entrambi gli elementi i due valori uguali, poiché appunto era impossibile districare e quindi si è fatta un'eccezione al vincolo. Vedete qua specificate le eccezioni al vincolo. Poi abbiamo un vincolo di formato che è uguale a quello che vedete, avevamo qua sopra dove c'era l'espressione regolare per il formato, che serve appunto a specificare quale successione di lettere e caratteri debba costituire il valore della proprietà dell'identificativo. E poi abbiamo, vedete, campo di applicazione, campo di applicazione che mi dice che questa proprietà può essere utilizzata come valore principale o come fonte, vale a dire non come qualificatore, il che effettivamente è logico nel senso che non avrebbe senso, in generale è molto raro, se non quasi, se non direi quasi appunto, quasi mai accade che un identificativo venga usato come qualificatore. Un identificativo può essere usato come valore principale, vale a dire può essere presente in un elemento, ad esempio in questa forma, cioè questo significa come valore principale, che appunto la proprietà è presente nell'elemento, oppure può essere presente come fonte, ad esempio io posso usare l'identificativo come fonte per dire che Pasquina è una stato parlante, vedete, qua potrei aggiungere, oppure che la statua di Pasquina a Roma è fatta in marmo, io potrei aggiungere come riferimento l'identificativo enciclopedia italiana e appunto sarebbe un uso legittimo, mentre non ha senso che io inserisco l'identificativo enciclopedia italiana come qualificatore, il che appunto viene proibito, o meglio segnalato come senza dubbio scorretto dal vincolo campo di applicazione. Altri vincoli molto frequenti possiamo trovarli, ad esempio andando a cercare la proprietà dell'enciclopedia Treccani online, questa, l'identificativo Treccani, e qui possiamo vedere invece un altro vincolo molto importante, quello che fa il paio col valore unico, vale a dire valore unico, ricordiamo, non è possibile che uno stesso valore, ad esempio Germania, sia presente in due diversi elementi, salvo eccezioni, al vincolo valore unico fa seguito l'altro grande vincolo, il vincolo valore singolo, cioè in uno stesso elemento non ci possono essere contemporaneamente due o più identificativi, ce ne deve essere uno solo, cioè in generale appunto, se io ho un elemento come Albert Einstein, esso potrà avere soltanto un valore per l'identificativo Treccani, cioè la Treccani avrà una sola voce Albert Einstein, e quindi se ad esempio fossero presenti due valori all'interno dello stesso elemento, verosimilmente ci sarebbe un errore, visto che uno sarebbe probabilmente non pertinente, o comunque non totalmente pertinente all'elemento, quindi se sono presenti contemporaneamente in una proprietà come di solito accade, il vincolo valore unico, il vincolo valore singolo, significa che la corrispondenza tra questo database, questo database e Wikidata dovrebbe essere univoca, cioè, anzi, biunivoca, cioè appunto ad ogni elemento di Wikidata dovrebbe corrispondere uno e un solo elemento del database e viceversa, con ovviamente spesso accade alcune eccezioni. Poi vedete anche qua un vincolo di formato e un vincolo campo di applicazione. Poi ci sono ancora altri vincoli frequenti, per approfondire i vincoli potete sempre fare riferimento alla pagina d'aiuto helper constraint, che spiega ovviamente come funzionano i diversi vincoli e appunto qual è il loro significato, poi in generale una spiegazione del genere, oltre che in questa pagina d'aiuto, vedete il property constraints portal, che spiega tutti gli identificativi più frequenti, vedete qui una spiegazione, sono tanti, poi molti diciamo sono di utilizzo relativamente raro e settoriale, altri sono invece di utilizzo più frequente, comunque se volete una spiegazione sui vincoli specificamente presenti in una certa proprietà, basta che entriate nella sua pagina di discussione. Se ad esempio entriamo nella pagina di discussione, vedete la pagina di discussione di una proprietà comincia sempre con una sezione documentazione, che contiene questo box azzurro generato automaticamente, che a partire da le proprietà presenti nell'identificativo, nella proprietà, genera questa tabella che ha delle informazioni ulteriori sulla proprietà o che diciamo riarrangia in modo più comprensibile quello che è contenuto nella proprietà stessa. Ad esempio vediamo soprattutto una serie di query utili, vedete come current uses, current uses mi fornisce la lista di mille valori, volendo io posso anche togliere questo limite, di elementi che contengono la proprietà in questione. Poi abbiamo ad esempio le statistiche per classe, che mi dice quali sono le istanze più frequenti, vedete le istanze P31 e le sottoclassi P279 più frequenti nell'uso di questo elemento, anzi qua, ecco meglio, vedete sottoclasse e istanza. Quali sono le istanze e le sottoclassi più frequenti negli elementi che usano questa proprietà? O ancora potete vedere altre interessanti query molto utili, già scritte, ecco qua poi vedete un'altra serie di query particolarmente interessanti, vedete anche un calcolo automatico di quante volte questa proprietà è usata e poi vedete anche questo link che vi permette di cercare direttamente ad esempio usi di questa proprietà su Wikidata, eccolo qua, un esempio di uso della proprietà, voi potete scrivere, cioè partendo dall'identificativo potete trovare l'elemento che lo contiene, per cui ad esempio io posso cambiare e mettere Giuseppe Garibaldi e ottenere, vedete, l'elemento di Giuseppe Garibaldi e così via e poi ecco, trovate una interessante spiegazione dei vincoli. Qua vedete tutta la spiegazione dei vincoli con tanto di query che vi dice in automatico dove questo vincolo viene disatteso e quindi voi potete già trovare le violazioni dei vincoli facendo partire una di queste query, il che è molto utile. Vedete poi una lista degli utilizzi di questa proprietà in diverse Wikipedia e questa è una lista compilata manualmente, quindi diciamo può essere incompleta però è pur sempre interessante e poi vedete la discussione sulla proprietà. Diciamo ancora una cosa, come potete vedere appunto, per vedere quando i vincoli vengono violati, i vincoli sono ovviamente il principale strumento che si usa su Wikidata per comprendere se una proprietà è usata correttamente o meno potete sia fare riferimento a queste query che vi danno i valori in tempo reale sia fare riferimento alla pagina delle constraint violations nei database reports che invece vi fornisce, diciamo, queste violazioni in modo statico, aggiornata periodicamente. Vedete, questa pagina è aggiornata al 19 aprile 2020, quindi a una decina di giorni fa ed è aggiornata, diciamo, all'incirca ogni settimana, dieci giorni a seconda, forse anche volte anche meno di una settimana, a seconda dei periodi, comunque diciamo tendenzialmente al minimo due volte al mese e quindi a seconda della vostra comodità potete fare riferimento o a questa pagina che vedete vi fornisce in formato di lista tutte le violazioni dei constraint, ovviamente non tenendo conto delle eccezioni oppure potete fare riferimento direttamente a queste query che vi mostreranno in tempo reale quali sono i casi in cui appunto i vincoli vengono violati e con questo abbiamo visto sostanzialmente quali sono le principali caratteristiche di un identificativo esterno su Vichidata. Grazie a tutti.